Da ottobre stop agli aumenti sull'A24 e sull'A25. È il risultato dell'incontro a Roma tra sindaci abruzzesi e laziali, rappresentanti sindacali, e il ministro dei trasporti Danilo Toninelli. Dal 1 ottobre fino al 31 dicembre saranno aboliti quindi rincari sui pedaggi autostradali. Ho incontrato personalmente i sindaci e i rappresentanti sindacali che sono venuti fin sotto il mio ministero per testimoniare la loro rabbia sui rincari dei pedaggi, così il ministro Toninelli in una nota. Ho detto loro che abbiamo intanto ottenuto da strada dei parchi per il periodo ottobre-dicembre 2018 una neutralizzazione degli aumenti delle tariffe scattate nel dicembre scorso. Ho spiegato ai primi cittadini qual è l'impegno senza precedenti che questo governo sta portando avanti allo scopo di ridiscutere con i gestori degli autostradali tutte le concessioni in termini di costi da sostenere e servizi resi a che viaggia. Un passo avanti per la deputata del PD Stefania Pezzopane. La riunione si è conclusa comunque con l'accordo di rivedersi tra un mese perché la lotta, in questo caso, ha pagato. Un passo avanti, mi impegno a seguire, ha ribalito la Pezzopane con grande attenzione tutti gli sviluppi di questa vertenza a tutela dei cittadini e delle cittadine.